un nuovo assetto politico allargato. Gli assessori hanno avuto la sensibilità di agevolare questo percorso di formazione di un nuovo esecutivo rassegnando contemporaneamente tutte e quattro le dimissioni. Sono rimasto un po' commosso, sento il dovere veramente di ringraziarli perché sono stati assessori veramente significativi hanno fatto tutto quello che potevano in questo periodo e lasciare adesso per favorire nell'interesse della città la formazione di un nuovo esecutivo è un atto importante, significativo che fa onore a tutte e quattro. Ma io avevo necessità sicuramente di allargare o di fare una maggioranza perché nonostante io la pensassi diversamente ritengo alla fine che senza maggioranza non si può amministrare. Andava fatto un lavoro dove ognuno mette da parte qualcosa di suo, non ci devono essere in politica risentimenti, non ci devono essere egoismi, ma va fatto sempre e comunque l'interesse della città. Arrivano in giunta consiglieri comunali, quindi arrivano persone elette, quindi già rappresentanti della città e per cui anche questo è un dato non secondario. I nuovi assessori praticamente vengono fuori dai partiti politici sostanzialmente, uno dal nuovo centrodestra, uno da Sicilia Futura, uno dall'articolo 4, l'ho dovuto cambiare l'assessore perché ci voleva una donna, quindi faccio una donna assessore e per dire il resto è il mio vice sindaco Savo Bologna. Dietro ognuno di questi c'è la deputazione regionale, c'è un partito politico, quindi questa è un'amministrazione politica. Non ci sono le persone significative, ognuno è spettico, eccetera, ma ci sono rappresentanti dei partiti, quindi ognuno più che rappresentare se stesso rappresenta il partito che lo ha espresso. Giuseppe Fausto e poi Maurizio Paradiso, espressione di Sicilia Futura e Lorena Di Gregorio che sostituisce all'interno di articolo 4 Mario De Filippi. Le deleghe le faremo più tardi, ci sarà tempo stasera magari, poi ci riuniranno fra di noi, ma non è un problema dei deleghe, il dato significativo è che ci sono i partiti politici e le delegazioni di partiti presenti in giunta.